Quanti modi conoscete per far sì che il vostro comune venga a manutenere una strada, un canale di scolo, un acquedotto che perde? Sicuramente si può usare il telefono per chiamare l'ufficio manutenzione, oppure ci si può recare di persona presso il municipio, o, altro ancora, si può mandare una mail. Ecco, proprio una mail. Ma quanti con lo strumento elettronico hanno inviato una poesia per sollecitare la manutenzione della propria strada? E' proprio questa la geniale idea di un solerte cittadino del rione foro di Francavilla al mare, che stanco di non essere ascoltato e di vedere la strada davanti casa allagata e piena di buche, ha deciso di mettere in rima le proprie doglianze. Ed è stata proprio questa inconsuete e fantasiosa modalità di lamentela a far sì che non solo l'ufficio preposto rispondesse in maniera celere, ma che anche in poche ore l'aca ponesse rimedio al guasto, le buche venissero rattoppate e il vicino canale di scolo fosse pulito. Il cittadino di Francavilla è stato anche invitato negli uffici per conoscere di persona i cosiddetti angeli della via, così come scritto nella mail, nei quali evidentemente ha suscitato una certa curiosità per la trovata a dir poco estrosa. Che non sia l'alba di una nuova comunicazione e amministrazione cittadino, al posto delle proteste e le poesie, ma soprattutto al posto di lettere non risposte, buche rattoppate.